gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia massimo cacciari del partito democratico quello che viene definito il filosofo il saggista del partito democratico intervistato ad agora il programma televisivo dice speriamo che ci sarà la capacità politica di destinare le risorse con programmi e non sparpagliare come in questi decreti dipenderà da questo in effetti nell'ultimo decreto emblematico che io ricordo sempre il bonus bonopattino ecco immaginatevi le persone che hanno fame che hanno perso il lavoro il milione 200 mila disoccupati nelle previsioni dell'inps e il governo fa il bonus monopattino immaginatevi queste persone senza soldi senza mangiare che corrono a comprare il monopattino ma qualcosa di assolutamente assurdo che dovrebbe porre fine a questa era giuseppiana una volta per tutte cacciari aggiunge servirà capacità politica per evitare che crescano disuguaglianze che sono cresciute a dismisura negli ultimi 20 30 anni gli appelli all'unità vanno bene ma ora c'è da affrontare la vera emergenza economica e sociale bisogna vedere in concreto cosa producono gli appelli quindi cacciari dice basta parole ci vogliono i fatti i fatti non bla 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 11 22 dirette facebook di conte 5 6 decreti e 450 uomini per delle task force consulenti bisogna comunque passare ai fatti ma i fatti realmente non 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 ci sono perché non c'è nulla di concreto io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale descrizione gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia io vi ringrazio vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci